Diciamo che nella nostra attività cospirativa eravamo un'organizzazione anche ai primi tempi diversa e molto diversa da quella della città. Nella città i movimenti partigiani della SAP agivano soltanto con due o tre persone per non dare nell'occhio perché magari c'era da disarmare qualcuno, c'era da fare qualche azione di sabotaggio eccetera eccetera due o tre persone potevano circolare. Noi dai primi tempi si agiva sempre tutti e cinque insieme. Quando il distaccamento è aumentato fino a diventare 15-20 abbiamo agito sempre tutti insieme. Questo fatto è fatto per dire quanto era diversa la nostra attività dalle SAP della città. Noi avevamo la sede nelle colline vicine nella quale di giorno ci potevamo nascondere. Alla notte si scendeva giù un paese e si va dietro. Per quanto riguarda la solidarietà, la maggior solidarietà noi l'abbiamo avuto il 24 aprile, il giorno dell'insoluzione, perché quando siamo scesi dalle colline con i fucili 91 sulle spalle la gente si meravigliava a pensare che noi fossimo quelli che durante la cospirazione, durante l'inverno, durante l'estate precedente avevamo fatto le azioni, avevamo disarmato i fascisti, avevamo requisito determinate cose, avevamo preso delle coperte, avevamo requisito dell'olio, avevamo fatto delle azioni che lì domani facevano parlare tutto il paese. Quindi noi non potevamo ricevere e neanche richiedere la solidarietà della popolazione, in quanto la cospirazione ci obbligava a stare la nostra persona, i nostri nomi, in segreto. Noi eravamo in cospirazione. Se qualcuno di noi avesse parlato in confidenza anche con i familiari, che la voce si fosse sparsa, neanche i familiari potevano sapere niente di quello che si faceva, perché era molto pericoloso. Una soffiata o qualcosa potevano, prima di tutto, essere in pericolo la nostra vita. E seconda cosa, di disfare tutta l'organizzazione che faticosamente avevamo creato in parecchi mesi. Quindi solidarietà noi abbiamo potuto richiedere. L'avremmo avuta, può darsi, però non si sa se saremmo qui a raccontare qualcosa. Azioni partigiane, il nostro distaccamento, man mano che aumentava come numero di resistenti, ne abbiamo fatto numerose. Diciamo che grossomodo possiamo aver fatto una decina, nel periodo dall'estate, 44 al 25 aprile, una decina di disarmi di San Marco, Brigate Nere e Gianere. Nello stesso periodo abbiamo fatto altrettante, non diciamo altrettante, ma diversa azione di recupero di viveri, in quanto la necessità dei nostri partigiani in montagna per sfamarsi, per mangiare, tutte quelle cose per oppurare gli intemperi dell'inverno, era molto importante, per almeno darci qualcosa. Noi, nella nostra zona, avevamo recuperato parecchie coperte, parecchie indumenti, nella caserma dell'ex autocento qui di Leggino. Abbiamo inoltre recuperato circa 250 kg di olio, perché nella zona non c'era altro, diciamo, poi era una necessità molto importante per i partigiani, perché mangiavano castagne secche, con latte, patate senza condimento, anche l'olio era un nutrimento molto importante. Quindi, diciamo che quello che racconto è successo il giorno preciso, l'8 marzo del 1945. Diciamo che all'inizio del mese, il comando di brigata ci segnalava che le riserve alimentari dei destacamenti di montagna erano assai scarse, scarse e ci raccomandò di recuperare i viveri di qualsiasi natura per alleviare i disagi che loro sopportavano. Il nostro sim, che vuol dire servizio di informazione, ci segnalò che in uno magazzino di Leggino c'erano disponibili, depositate una certa quantità di olio d'oliva. non sapevamo quanto, ma decidemmo una sera, quella sera, qualche giorno prima, decidemmo di entrare in azione l'8 marzo e al comando di schiavo, che era allora il comandante dei destacamenti, io ero soltanto vice commissario, e ci recamo vicino alle mura della petrolera, che è qui vicino, per prelevare diverse latte di quelle che usavano per la benzina, quelle latte quadrate stagnate che contengono 25 kg circa di benzina, e ci recamo appunto vicino a questa petrolera. Con l'aiuto di uno dei collaboratori che avevamo dentro allo stabilimento, uno di noi andò a Cavalcione del muro e l'altro di dentro passava dei latte a quello sul muro, e quello sul muro ce le passavano a noi, che eravamo una quindicina di partigiani, ecco, perché non sapevamo quanto potevamo portare, quanto erano l'olio, e insomma ci siamo provveduti almeno di mobilitare quindici persone. Quando avevamo quasi ultimato questo lavoro sentiamo l'arrivo, il rumore di un aereo che era notte inoltrata, ma allora gli aerei venivano appunto di notte per disturbare, allora pensavamo che fosse il solito aereo che veniva a disturbare i sogni dei savonesi, e si è messo a girare proprio sopra all'eggiro, proprio sopra di noi. Poi, ho fatto tre giri, va bene, noi andiamo avanti, avevamo quasi ultimato il lavoro, quando provvisamente quest'aereo ci lancia fuori quattro bengala, quattro o cinque bengala, c'era proprio sopra dove si operava. Eravamo lo scoperto, a cento metri dove c'era il muro di cinta della petrolera c'era un posto di blocco dei San Marco che c'è ancora adesso, lì nel bunker dove c'è il dopolavoro ferroviario, dove ci sono i campi delle bocce del dopolavoro ferroviario, quindi a cento metri dalla distanza della petrolera. Cosa facciamo? Scendiamo giù dal muro, ci cucciamo in terra e ci mettiamo subito riversi in terra, nascondendo le latte. Poi questo aereo, va bene, ha fatto due o tre giri, ha sganciato qualche bomba da qualche parte, finalmente anche i bengala sono scesi a terra, ma questo è durato circa mezz'ora, e noi siamo potuti andare, abbiamo potuto proseguire il nostro compito. Siamo andati nel magazzino, abbiamo usato, ci ha aperto una persona che forse era un nostro collaboratore, pensando, ci ha aperto e abbiamo detto cosa vogliamo, il comandante schiavo ci dice siamo venuti a prendere dell'olio, ma qui noi ce n'è, c'è, c'è. Siamo andati giù nel locale del magazzino e abbiamo visto che era un locale abbastanza ampio, tutto attorno c'era almeno una trentina di giare di terracotta, alte un metro, contenente, consumevamo l'olio. Abbiamo guardato, c'era effettivamente, molte erano piene d'olio. Noi avevamo, ricordo che avevamo preso 12 latte, forse ce n'erano qualche di più, ma però abbiamo riempito 12 latte da 25 kg. Eravamo a 15, avevamo quasi una per una. la comandante ha firmato il suo buono per il rimborso, per aver requisito quest'olio, in modo che finita la guerra poi, come sappiamo, sono stati risarciti tutte le persone alle quali è stato requisito o animali o materiale o qualcosa. E ci incamminiamo piano piano verso l'interno. Le abbiamo portate su, piano piano, su per i sentieri, uno di noi sapeva la strada, aveva i contatti con i partigiani di montagna e dandoci il cambio, perché arrivavamo a 15, otto latte potevano uno fare 100 metri e poi darci il cane. Insomma che verso, non so, fino a che ora siamo arrivati, probabilmente siamo arrivati sopra, quasi vicino a, prima, alle Valle di Vado in alto, molto in alto, quasi, non diciamo, ma verso i paesi lì di Segna, di Sant'Ermento, quei posti lì, ma in alto, sempre in montagna, per sentieri, non per le strade. E lì avevamo l'appuntamento, abbiamo lasciato le latte e noi se ne siamo tornati indietro per la stessa strada che avevamo compiuto. Ma si arrivano arrivati a casa alle 3 alle 4, non so, non ricordo più quanto tempo è con me. Questa è stata un'azione, diciamo, non di guerra, ma abbiamo requisito e rischiato tanto quanto si può fare in un'azione armata. Grazie.